Gli sposi stanno pronunciando il loro sì in chiesa tra tanta gente invitata e i ladri, a conoscenza di quanto sta accadendo, si precipitano in casa dei genitori della giovane donna che sta per unirsi in matrimonio, arraffando i regali di nozze. Bloccati dalla polizia, sono stati arrestati con l'accusa di furto in appartamento. Loro sono due ragazzi giolesi. Si tratta di Carlo Azzarelli, 19 anni, pregiudicato per reati contro la persona, stupefacenti a ricettazione, e di Armando Emanuele Ferrigno, 18 anni, incensurato. È stata una segnalazione anonima giunta al 113 a segnalare la presenza dei due giovani all'interno di un'abitazione di contrada a Scavone. I malviventi, dove rafforzato una persiana, si sono introdotti in casa con il chiaro intento di trafugare tutti i legali destinati agli sposi. Gli agenti di polizia, prontamente intervenuti, hanno bloccato i due ragazzi mentre erano ancora sui balconi dello stabile. Sotto poste a perquisizione, sono stati trovati in possesso di diversi molili in oro appena rubati. Poco prima, avendo intuito che sul posto era giunta una volante, Azzarelli e Ferrigno hanno tentato la fuga sui tetti, disfacendosi di alcuni contenitori e altri oggetti. Adesso, su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due ragazzi sono stati posti agli arresti domiciliari. Preziosa, sottolinea una nota del commissariato, la collaborazione dei cittadini nel segnalare, anche in forma anonima, la consumazione dei reati predatori che ha permesso di salvaguardare la proprietà degli sposi che non hanno visto così rovinata la loro giornata speciale e tanto attesa, grazie al pronto intervento della polizia. E nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, sempre la polizia ha arrestato Rocco Lamattina, 36 anni, in ottemperanza al decreto di provvisoria sospensione cautelativa di misura alternativa emesso dall'ufficio di sorveglianza di Caltanissetta. L'uomo si è reso responsabile in più occasioni di violazioni delle prescrizioni imposte dalla magistratura. Denunciati i due 24 anni giadesi per possesso di hashish, ad uno dei due è stata ritirata anche la patente di guida. La polizia amministrativa e sociale, inoltre, ha eseguito controlli ai locali di intrattenimento del lungomare e del centro storico. Passati ai raggi X e ai negozi, elevate due infrazioni e controllate 35 persone.